Siamo in compagnia di Matteo Ferrari con il suo bellissimo trofeo del Cive Superbike. Matteo hai conquistato un terzo posto e un primo posto nella terza tappa del Cive Superbike che si è svolto a Imola nel weekend. È stato un weekend molto importante, peccato per la gara 1 dove ho commesso un piccolo errore ma ho comunque recuperato fino al terzo posto. La gara 2 mi sono divertito, ho fatto una bella battaglia sia con Michele che purtroppo alla fine caduto e Zanetti e sono riuscito a vincere quindi questi due posti mi permettono di andare in testa alla classifica. Adesso sarà importante comunque tenere alta la testa e rimanere concentrati. In classifica hai raccimolato fino ad ora 121 punti a fronte dei 120 del tuo compagno di squadra Michele Pirro un veterano della categoria che fa esseri davanti anche solo di un punticino. Beh sicuramente a metà stagione non me lo sarei mai aspettato perché comunque Michele va molto molto forte e sicuramente l'incidente che ha avuto al Mugello l'ha un po' debilitato questa gara ma ha spinto forte quindi mi sono divertito, mi sto allenando insieme a lui e questa cosa ha ripagato. Prossimo appuntamento con la Stock 1000 a Misano 7-8 luglio. Tu ad inizio stagione col Civa avevi raccolto due secondi posti quindi una pista a te favorevole. Sì sicuramente l'appuntamento della Stock sarà molto importante, abbiamo già fatto una wildcard a Imola dove siamo stati protagonisti e abbiamo vinto quindi bisognerà riconfermarsi.